Ed eccolo, il baglio che viene consegnato dal sindaco al magistrato del baglio, un bell'applauso! Al sortezzo, capitano di contrada, dietro a Gavina, ed ha sorteggiato la dama numero due, vieni! Contrada del mercato prende la dama, la sposa numero sei! Rullo di tamburi, grazie, contrada di dentro, i più belli, i più simpatici! E vediamo che andiamo a prendere Erby, che andiamo a prendere la numero otto! Che proviene dal mercato! Ed è la numero cinque! Ed eccola, che numero hai tu? Vieni, si è chiamato, la numero uno, la sposa per la contrada della torre! Ed è la numero tre! Chiara, che correrà per la porta sottana! E abbiamo, con lei che provava stamattina, Carlotta, la numero quattro, per la contrada di Pognassi! Pesca, se lo trovi, ne manca una, vieni! Ed è la numero sette! Restizione per l'ultima contrada! Tre, due, uno, via! A presto! E Viviamo! Che ma bene! Chiara e Buona! Grazie. 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 Grazie.